Fratelli d'Italia conferma che non farà parte, ne sosterrà un governo se fosse confermata la guida del governo per il professor Giuseppe Conte. Lo facciamo per rispetto alla volontà popolare, ai nostri sostenitori. Non penso che la maggioranza dei cittadini che ha votato centrodestra per avere un governo in espressione del popolo sia contenta di ritrovarsi a Palazzo Chigi un altro tecnico, espressione del Movimento 5 Stelle, di sinistra, amico della poschia di Napolitano. Diciamo che per rispetto ai nostri cittadini lo possiamo sostenere.